Sarebbe stato il fornitore di droga e in particolare cocaina della Pescarabene, questo il sospetto dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo della Compagnia Adriatica che nell'ambito dell'operazione denominata Duble Fas hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dai domiciliari un 58enne di Villaraspa di Spoltore. Il coccio di ferro è fra l'altro anche in ragione della sua età anagrafica, è una vecchia conoscenza sia dei consumatori ma anche di chi poi si occupa di reprimere i fenomeni di illegalità. La sua recidività di queste condotte dimostra ulteriormente quanto sia redditizio l'operare in questo mercato. E' ovvio che l'assuntore di stupefacenti che magari ritiene di essere nella parte sana della società, nella parte buona della società, non fa altro che attirare interessi criminali di un certo livello a casa propria.